Salve a tutti, il mio nome è Marco Bastoggi, ho frequentato il liceo linguistico Niccolò Copernico dal 2013 al 2018. Ho quasi 21 anni, al momento sono al terzo anno di università presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Boho di Firenze. Le mie lingue di lavoro sono l'inglese e il telesco, mi sto specializzando per diventare o interprete o traduttore. In questo momento mi trovo a Saarbrücken, in Germania, una città al confine con la Francia, per effettuare il mio periodo di Erasmus e sto studiando quindi alla Universität des Saarlandes, cioè l'università del Saarland.